Cambiamo pagina, a 43 anni dalla nascita di Telefono Amico, ha presentato un'iniziativa per promuoversi e farsi conoscere da chi non ha avuto ancora occasione. Si tratta di uno spettacolo di cabaret Beppi e Maria Show, presente l'assessore alle politiche sociali Fabio Berlato, il presidente dell'associazione e il carabettista Fred. Sentiamo le interviste di Alberto Pastore. Telefono Amico è una grossissima risorsa, avete sentito è da 43 anni che accoglie telefonate di persone in crisi, sole, adesso poi è un momento critico anche per l'Italia a punto di vista economico, quindi hanno sicuramente anche un aumento di queste telefonate. Noi come comune, come servizi sociali in particolare, li usiamo tra virgolette, è brutto il termine, ma utilizziamo la loro esperienza nelle telefonate da 7 anni con la Telefonata Amica. Come sapete noi ogni settimana abbiamo circa 700 anziani a Padova che ricevono una telefonata da 6 associazioni diverse, una di queste è stata la prima, è proprio Telefono Amico. Cosa fanno? Hanno 100 anziani a cui telefono settimanalmente, sono anziani soli sopra i 75 anni come media, sentono a parte creare una relazione, quindi un rapporto, farli sentire meno soli, sentono anche che esigenze hanno e in questo caso poi ce le segnalano. Altre associazioni anche vanno direttamente a casa e questo è particolarmente importante, specialmente nel periodo estivo, perché l'anziano nel periodo estivo può soffrire di più solitudine anche col caldo, eccetera. Quindi ci segnalano anche situazioni che hanno bisogno di aiuto, il nostro assistente sociale va, quindi è una sentinella in più che abbiamo, oltre a fare questo grosso lavoro contro la solitudine, contro la depressione. Quindi ecco, sono veramente contento che siano usciti allo scoperto con questa conferenza stampa e con lo show che ci sarà tra un paio di giorni a San Gaetano. Lunga vita, telefono amico. Ma con la crisi chiedono soprattutto un ascolto, supporto, supporto chiaramente non di tipo economico in quanto noi non lo possiamo dare. Pensate che il nostro ascolto e il nostro supporto parte con l'inizio della telefonata ma poi termina con la chiusura della telefonata. Quindi quegli 20 minuti, quella mezz'ora si crea tra la persona che chiama e il tornista che risponde un apporto di empatia e di ascolto attivo che non è uguale con altri tipi di servizi.